Io credo che verranno delle proposte come anche sicuramente dei rilievi critici. Noi siamo pronti ovviamente a rispondere a tutti i rilievi e ad accogliere le proposte. Lo possiamo fare in occasione di un incontro che potrà avvenire domani pomeriggio, come la settimana prossima, quando vorranno. Ripeto, pronti a rendere conto di ognuna delle nostre azioni e delle nostre scelte. Gli imprenditori. Io credo che, soltanto per citare le cose più importanti, non ricordo neppure quante decine di incontri abbiamo fatto in una lunghissima trattativa per mantenere la produzione delle auto a termini merese, con un investimento di decine e decine di milioni di euro che sicuramente hanno visto la regione in prima fila accanto ai lavoratori perché in Sicilia non si perdesse questa opportunità. Per continuare e dire della produzione del fotovoltaico a Catania, a Catania il fotovoltaico si produce anche perché abbiamo convertito un accordo di programma che consente, ma non è solo questo, abbiamo più volte rifatto un piano energetico della regione che si è ispirato alla logica del fotovoltaico democratico, quello per le famiglie, per la piccola impresa agricola e artigianale. E oggi lo stiamo sostenendo con un disegno di legge che destina un miliardo del nostro patrimonio, non denaro contante, ma un miliardo di patrimonio immobiliare con cui si costituisce un fondo di garanzia a sostegno delle imprese e delle famiglie che così potranno avere il 100% o quasi del credito per poter avviare l'energia alternativa, soprattutto quella fotovoltaica. Ieri o avanti ieri siamo stati a Catania ad inaugurare un nuovo stabilimento di Selex anche perché con Finmeccanica abbiamo avviato un rapporto di collaborazione che ci consente di acquisire apparecchiature e sistemi che Finmeccanica produce. Per non parlare, ad esempio, di Cesame, abbiamo aiutato i lavoratori dell'area etnea di quella gloriosa fabbrica a mettere su una cooperativa di produzione o la Pfizer che stava perdendo il suo centro di ricerca e che la Regione, sempre dopo laboriosi incontri, confronti e trattative, sostiene perché anche il know-how posseduto da quegli imprenditori e da quei ricercatori non si perda. Possiamo dire ancora, io credo che abbia prodotto i suoi frutti, il credito d'imposta per l'occupazione come il credito d'imposta per gli investimenti. I 120 milioni che abbiamo destinato si sono volatilizzati e abbiamo dovuto avviare una lunga trattativa con l'Unione Europea perché ci autorizzasse a impiegare questi fondi e queste risorse. Le ferrovie dello Stato ci dicono che per la prima volta nella storia abbiamo destinato un pezzo delle nostre risorse perché si acceleri la tratta Catania-Palermo e già si parte per realizzare il primo tratto di questo percorso da Catena Nuova a Catania. Sono tutte cose che vengono incontro, credo, alle istanze che i lavoratori e gli imprenditori ci faranno. Io l'altro giorno ho letto un comunicato, un documento che le associazioni di categoria degli artigiani, spero che questo non si dimentichi, hanno fatto a favore di un governo che li ha sostenuti anche col credito della Crias che ha funzionato benissimo. Per quanto riguarda il resto stiamo adottando misure. La Serit, ad esempio, consente la rateazione in 60 rate dei crediti fino a 20 mila euro e a 72 oltre i 20 mila euro e che si possano togliere le ipoteche per crediti da parte della Serit fino a 8 mila euro. Il fatto che all'Assemblea si sia istituito proprio oggi un intergruppo per il lavoro e per lo sviluppo indica la volontà anche da parte dell'Assemblea di sintonizzarsi lungo questa lunghezza d'onda. Mi auguro che domani ci sia un confronto, si avvii o meglio si rilanci perché con i sindacati e con gli imprenditori ci vediamo giorno per giorno e ci confrontiamo giorno per giorno che la manifestazione, l'iniziativa sia finalizzata al confronto perché sul piano del confronto vogliamo mantenere anche la nostra interlocuzione.